Musica Ci troviamo in collegamento telefonico con la modella Luana Grudena. Ciao Luana, i nostri amici desiderano sapere come ti sei avvicinata al mondo della moda. Ciao a tutti, sono Luana. In realtà non sono stata scoperta da nessuno. Nel mondo della moda e dello spettacolo mi è sempre interessato, vestirmi bene, essere ben truccata. Sento di avere l'immagine giusta per essere testimonial e in futuro spero che molte aziende mi contatteranno per questo. A chi ti ispiri come modella? Come modella mi ispiro molto a Naomi Campbell perché è una donna guerrita e accattivante. In ogni suddumento che indossa fa risaltare il suo carattere e la sua femminilità. Mi piace molto come persona, anche se non l'ho conosciuta, però devo essere sincera, è bravissima e bellissima. Io penso che quasi tutti siano d'accordo con me. Il tuo genere musicale preferito? Non ho un genere preferito. Mi piace ascoltare musica degli anni 70, 80, 90, quali complessi come Talk Talk, Modern Talking e Gabba. Però anche qualche musica di ora mi piace. In generi così specifici tipo rock, jazz, no, non ne ho. Il tuo look? Allora, il mio look giornaliero sono tacchi alti perché le scappe basse non riesco a portarle. Sì, purtroppo è grave ed è vergognoso. Poi mi piace mettere le minigonne con collante neri, ma è trasparente. Poi indosso spesso guanti o scaldamuscoli. In abbinamento comunque con la borsa oppure con il giacchettino. Mi piace coordinare molti colori e abbinare anche gli accessori in base ai vestiti. Qual è la tua giornata tipo? È una giornata tipo, la mattina presto, non sono un tipo che dorme tanto, per le sette così. Fare colazione al bar, che mi piace tantissimo. Poi uscire di casa, giustamente, andare a fare un giro. Vedere il centro storico di una città, mi piace viaggiare spesso a me. Quindi poi alla fine finisce la giornata con un pranzo, qualche volta anche fuori, uscire con gli amici, dedicarmi ai corsi, dedicarmi allo studio. Questa è la mia giornata tipo. E poi letto abbastanza presto, molto. Un consiglio a chi vuole intraprendere il percorso da modella? Il consiglio che potrei dare è di investire sempre su se stessi e non perdere tempo, dato che si vive solo una volta. Buttarsi a capofitto nelle opportunità di lavoro e essere sempre se stessi. Qualsiasi cosa uno propone è di tirare fuori il proprio carattere e di essere unici, perché nel campo della moda ci vuole questo. Ci vuole l'unicità della modella o del modello che vuole intraprendere questa carriera. Sei single? Io sì. Cosa sai che un uomo? Assolutamente sono single. Cosa sai che un uomo? Il mio mio ideale sarebbe di tutto stupirmi, entrare nella mia testa, nei pensieri, capire ciò che voglio. Sono una ragazza seria che pensa molto al suo futuro, ma nel campo del lavoro. Per adesso uomini non mi interessano, perché riesco ad essere colpiti di piombo per quelle cose. Sono ancora abbastanza giovane, quindi perciò ne ho di tempo per pensare. Se ti proponessero un film, che genere scegliresti tra l'horror, thriller e commedia? Chi era qualsiasi tipo di film? Non ho un genere preferito, almeno quando li guardo mi piacciono gli horror, però se mi devono proporre un titolo, come protagonista o come seconda parte in una commedia, accetterei anche volentieri. Grazie per la tua disponibilità e ti aspettiamo presto in Sicilia per uno shooting.